Allora, coach, siete pronti? Siete sempre caldi? Mi piacete moltissimo, fino adesso, naturalmente, avete davanti 5 Blind Audition. Sapete anche che dovrete comporre una squadra di 14 elementi. Allora, abbiamo pensato che l'ultimo che formerà la sua squadra... ...fagliere a pegno. Ecco, allora... Se l'ultimo a chiudere la sua squadra sarà Gigi D'Alessio, ecco, dovrà interpretare a modo suo tuta di felpa, celebre hit di due pechegno. Se l'ultimo a chiudere la sua squadra, lo vedo difficile però, non si sa mai, è Morgan, dovrà cantare e ballare a modo suo, Pem Pem di Elettra Lamborghini. Sono pronto, sono pronto. Il ballo già c'è, il ballo già c'è. Ballando, anche. L'abbiamo già, ho istruito il ragazzo. È chiaro, Morgan, che dovrai anche tuercare. Quello lo sono già a posto. Esci, lo esci, lo esci. L'abbiamo già scritto, la faremo adesso. Lui tuercava da piccolo già. Allora, se ci sarà Elettra, quella che chiuderà per ultima la sua squadra, dovrà eseguire a modo suo, altrove di Morgan. Ah, non la conosco neanche, aiuto. È proprio il tuo brano, guarda. Sì. È il tuo genere. Vabbè, senti io. Questa è stata una mia scelta. Gue, dovrai rappare. Non dirgli mai di Gigi D'Alessio. Guarda, ma io quasi quasi lo faccio a posto. Va bene, vi lascio al prossimo talent, che si girino le sedi più famose d'Italia. Ora ricorda dove è il tuo cuore. Ora ricorda dove è il tuo cuore.